Il lungo ponte di Pasqua è alle porte. Alberghi, campeggi e città si apprestano ad accoglieri vacanzieri pasquali, tirando a lucido le strutture e facendo le prove generali per la stagione turistica prossima a venire. Luciano Cecchini, di alberghi e consorziati, esprime un cauto ottimismo. Ricominciamo a vedere gli stranieri, tedeschi e austriaci con olandesi e inglesi, ci dice, che stanno dirottando le loro vacanze nel bel paese. Il lavoro di promozione della regione Marche tiene ed i frutti si incominciano a vedere. La paura delle scosse si allontana sempre di più e anche le strutture ricettive e cittadine hanno prenotazioni per l'80% della loro capienza. Si aspettano però il last minute, ma qui, ahimè, c'è la nota dolente che si chiama Fano Grosseto. Per noi, continua Cecchini, è una spina nel fianco, siamo molto penalizzati rispetto alle basse Marche che hanno invece la quadrilatero. Ma per chi viene a Fano in queste giornate, oltre a mare, buon cibo e dentro terra, che cosa si può trovare? Ci risponde l'assessore alla cultura, Stefano Marchegiani. Oltre al Museo della Flaminia, che sta riscuotendo un grande successo, che ha il compito con i suoi contenuti tecnologici, interattivi, web, la chiesa di San Pietro in Valle, che è un capolavoro dell'architettura manerista e barocca, e poi la novità che andiamo a illustrare un pochino meglio oggi, e che è stata inaugurata ieri, questa mostra, rinascimento segreto, curata da Vittorio Sgarbi, che si articola su tre città, Urbino, Fano, Pesaro, ed è un primo straordinario esperimento di bigliettazione unica, nel senso che con un biglietto a prezzo intero di 10 euro, ridotto 6 euro, si potrà visitare per giorni, perché questa mostra dura quattro mesi, un'opportunità grande perché sono circa 100 opere che analizzano un periodo della storia italiana straordinaria, e non solo italiana, a cavallo tra 400 e 500, opere peraltro segrete, nel senso che non si vedono nelle collezioni pubbliche, derivano da collezioni private, da fondazioni bancarie, da altri istituti che le hanno prestate, e quindi è un'occasione abbastanza rara di entrare in contatto con grandissime opere di grandi talenti, non a disposizione abitualmente dei musei. Una volta finito lo splendido percorso all'interno della mostra, si accede a un cortile stupendo, che è un piccolo gioiello nel gioiello di Fano. Sì, si ha la possibilità, uscendo di apprezzare la corte manatestiana, con i suoi resti archeologici, in un percorso che poi, attraversando la porta alla piazza, 20 settembre, quindi un circuito molto affascinante che abbiamo a disposizione per questa mostra.